Prima di passare alla riflessione e spiegazione del messaggio che abbiamo appena letto, vi ricordo che in descrizione del video troverete il mio sito web waltersull.it e la possibilità di scaricare gratuitamente i libri che ho scritto per la gloria di Gesù e per la vostra salvezza. Quindi troverete i libri sul grande avvertimento, sull'inferno che esiste, la mia testimonianza e ovviamente questo libro molto importante che ho concluso in questi giorni, il manuale della sopravvivenza a fine dei tempi. Noi ovviamente clicchiamo acquista cartaceo su Amazon, io vi mostro che è anche presente su Amazon, non perché io ci debba guadagnare qualcosa, ma affinché ognuno di voi possa avere anche la versione cartacea nel momento in cui arriverà la grande tripolazione e non avremo più energia elettrica per un periodo e quindi sarà necessario che tutti noi abbiamo a disposizione dei libri cartacei come questo dove ho raccolto attraverso le varie rivelazioni di Luzia di Maria e tanti altri mistici le piante medicinali per combattere le nuove malattie, le scorte di cibo, come fare le scorte di cibo e come trasformare la propria abitazione in un rifugio di preghiera, un cenacolo di preghiera protetto dagli angeli e benedetto dalla Santissima Trinità. Sia lodato Gesù Cristo, benvenuti fratelli e sorelle, oggi ci troviamo sul sito italiano ufficiale delle apparizioni di Manuela è la cittadina tedesca di Sievernich andiamo a leggere il messaggio di Gesù Cristo, nostro Signore, del 25 dicembre 2023 richiamiamo noi lo Spirito Santo per leggere e meditare questo messaggio Vedo il re della misericordia nelle sembianze di Gesù, bambino di Praga Egli indossa una veste e un manto bianco, ricammato con grandi boccioli aperti di giglio dorato Una luce dorata avvolge il re della misericordia Nella mano destra legge un grande scettro d'oro e nella mano sinistra una grande pianta con sette fiori di giglio bianco Due santi angeli vestiti di bianco, candido e diversi santi pastori con un bastone di legno in mano accompagnano il re della misericordia Il re celeste dice, nel nome del Padre e del Figlio, che sono io, dello Spirito Santo. Amen Ora il re divino consegna il suo scettro d'oro e la pianta di giglio agli angeli Quindi il re della misericordia si avvicina a me, mi offre le sue mani per l'adorazione e mi chiede di baciarle Mi inginocchio davanti al re celeste e bacio le sue due mani, notandolo e glorificandolo Poi il re della misericordia mi chiede di adorare i suoi piedi baciandoli Lo faccio volontiere Mi inginocchio davanti al re celeste e bacio i suoi piedi, notandolo e glorificandolo Mi abbraccia brevemente e io guardo i suoi occhi azzurri, che sono un oceano di amore divino Quanto è bello il suo volto, quanto sono belli i suoi piedi e le sue mani Il re della misericordia torna dai suoi angeli, che gli porgono di nuovo lo scettro d'oro e la pianta di giglio Quindi egli dice Ti do, ti dono la mia grazia e la mia misericordia questa notte Essa è veramente santa, perché io sono santo Non ho abbracciato solo te Abbraccio con il mio amore tutte le anime, il cui bene supremo è fare la mia volontà Esse sono una famiglia per me Guardate i pastori santi, pregano per i pastori della chiesa L'anno prossimo sarà un anno di prova per i pastori della chiesa Devo permetterlo, perché questo è il tempo della tribolazione Quando il male esige di vagliare gli uomini Il Padre Eterno, che nei cieli ha permesso questo tempo di purificazione per voi Io sono con le mie pecore In questo difficile tempo di prova, la mia grazia sarà più grande del peso Ascoltate la mia parola, pregate, sacrificatevi, riparate Rimanete fedeli a me e siete saldi nella fede Non permettere che l'errore entri nel vostro cuore I due angeli inginocchiati stendono su di noi il manto del re della misericordia Liberandosi nell'aria Cantano il Sanctus Il manto del re celeste esteso su di noi come una tenda protettiva Ora il Signore tiene lo scettro sul suo cuore Che arde d'amore Posso riconoscere il monogramma dorato sul suo nome IHS Sul suo cuore Il suo cuore pulsa tre volte Poi lo scettro diventa aspersorio del suo sangue prezioso Ci asparge con il suo prezioso sangue In nome del Padre, del Figlio, che sono io e dello Spirito Santo Amen Ti dono una pianta di giglio perché tu la possa piantare Manuela, grazie Signore E questa? Il re della misericordia risponde sì Egli prosegue Rivestitevi dell'armatura del mio amore e della perseveranza per il prossimo anno Pregate molto Il mio sangue prezioso vi garantirà protezione e salvezza La natura si solleverà Toccata dalla spada dell'Arcangelo Ma voi continuate A chiedere la sua amicizia Il fedele Arcangelo Michele prega per voi Presso il trono Del Padre Eterno Diamo tanto E non voglio che vi perdiate Osservate i comandamenti del Padre mio Che ve li ha donati per amore Quanto pesa l'errore davanti a Dio Il peso della guerra nel mondo indica Quanto il peccato sia diventato manifesto tra gli uomini Tutto ciò che è santo dovrebbe essere gettato via Il comandamento del Padre mio non dovrebbe essere più valido Ma io vi dico L'Eterno Padre Eterno è il suo comandamento Eterno è la sua parola Il mio amore per voi è eterno Non temete Osservate ciò che vi ho detto Allora io sarò con voi E vi condurrò attraverso questo tempo A Dio Il re della misericordia torna alla luce Come pure gli angeli pastori E tutti scompaiono Questo messaggio è resonotto Senza voler anticipare il giudizio della Chiesa Cattolica Sia lodato Gesù Cristo nel cuore immaculato di Maria Allora Gesù Ci indica In questo messaggio Prima di tutto Che il 2024 sarà un anno Dove la guerra e la natura Flagelleranno il mondo E dove la nostra amata Chiesa Cattolica Subirà delle prove Terribili Ecco che Gesù Davanti questi tre eventi La guerra Le catastrofi naturali E le prove della Chiesa Le prove della Chiesa Intese come La perdita della fede Causata dall'azione Della massoneria ecclesiastica Al suo interno Ricordiamo che la massoneria ecclesiastica E' una rivelazione della Santa Vergine Maria Il mistico Don Stefano Gobbi E quindi Questi tre eventi necessitano dell'azione del popolo di Dio attraverso la preghiera Il sacrificio E la riparazione Noi siamo chiamati oggi a queste tre cose In ultimo Gesù ci dona una raccomandazione Di farci amico San Michele Arcangelo Ma voi continuate a chiedere la sua amicizia Il fedele Arcangelo Michele prega per voi presso il trono del Padre Eterno Ecco che siamo chiamati a cercare questa amicizia Questo contatto con San Michele Arcangelo E le sue sante legioni angeliche Attraverso la preghiera San Michele Arcangelo La preghiera dell'esorcismo di Papa Leone E poi se possiamo anche le coroncine angeliche Ai sette arcangeli Agli angeli E a San Michele Arcangelo Non dimentichiamoci comunque la preghiera dell'esorcismo Per chiedere sempre a San Michele Arcangelo Di benedire la nostra giornata E anche quando andiamo a dormire Non c'è molto da dire Se non ancora una volta Preghiamo Sacrifichiamoci E ripariamo per questo anno Preghiamoci Preghiamoci